istituto comprensivo villa san martino di pesaro mettiamo al centro le esigenze e i bisogni degli alunni garantiamo a ognuno di loro le stesse opportunità di apprendimento relazione e comunicazione affinché le diversità siano una ricchezza e delle possibilità per il futuro per diventare cittadini consapevoli una scuola accogliente laboratoriale digitalizzata che sa guidarti e imparare con te visita il sito www.villasanmartino.edu.it nell'area open day online per ogni informazione e aiuto contatta l'ufficio didattica